Allora, mi fa sempre paura parlare di masterclass perché usiamo questa terminologia e questo termine. In realtà è un incontro vero e proprio e basta, è giusto che sia una chiacchiera con le persone che possono essere interessate a sentire qual è il tuo punto di vista rispetto alle cose che fai, la possibilità di poter soddisfare le curiosità delle persone che poi alla fine sono effettivamente il pubblico. E' una cosa molto molto bella che mi piace fare. Mi è sembrato che ci fosse una bella attenzione, che le persone fossero interessate, quindi è stata una bellissima mattinata. Per quello che riguarda il festival, innanzitutto per me era molto importante venire qui per capire anche, essendo questo il luogo in cui è nato Bellocchio, proprio camminando mi sono domandato ma che cos'è che gli ha fatto scegliere di fare cinema venendo da qua? E' molto bello, dopo di che è molto molto bella l'atmosfera che si respira, è molto bella questa idea che c'è un'intera comunità che si occupa di questa cosa qui. Mi piace molto, perché al contempo è molto seria e professionale, però è molto raggiungibile. Senti che questo mondo del lavoro, del cinema, che sembra essere sempre nascosto chissà in quale luogo, in realtà si può fare e si fa in una maniera molto più tangibile, riconoscibile e rintracciabile. E penso che per i ragazzi questo sia molto importante, perché rompe un po' di schemi, rompe un po' di paure. E mi piace anche molto il rapporto che proprio il luogo ha con questo festival. Applausi